Calze e collane Ellie. La bellezza di star bene. Ceciotti Ovidio, insegnante. Una vita monotona passata tra una classe indisciplinata, una fidanzata noiosa e una dieta a base di carota. Sono tuo fratello, Raffaele. Ciao pistola. Ma ora che è arrivato lui, è l'inizio di una nuova vita tra dolci avventure, qualche guaio e tanto divertimento. Renato Pozzetto e Renato Pozzetto in E' Arrivato Mio Fratello, mercoledì alle 20.40 su Rete 4. Sono le undici e mezzo. Le undici e mezzo. Le undici e mezzo. E allora Coca-Cola Light. Lora Coca-Cola Light. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Irresistibile. A domani. Nuova Coca-Cola Light, nuovo gusto. Goditela fino in fondo. Pan di Spagna Essere, con solo l'1,5% di grassi. Certo che piacciono alle mamme, ma se i ragazzini le mangiano, giuro che mi faccio Boy Scout. Oh oh. Pan di Spagna Essere, soffice e gustoso, con solo l'1,5% di grassi. Io sono Miss Chiquita e voglio dirti che A tutte puoi resistere, ma non a me Io ti tento con Chiquita Sempre lei la preferita Se è Chiquita, forse oggi è il giorno giusto per comprare banane Da sempre le cose migliori sono state imitate Shake me baby every day and night Drive me crazy, baby, that's all right Kiss me baby everywhere and night Certo, gli originali hanno tutto un altro sapore. Qui a colazione scegliete gli originali Kellogg's Corn Flakes. Sono più buoni, perché hanno il sole dentro e quella tostatura perfetta, unica di Kellogg's, che li fa più croccanti. Inimitabili. Kellogg's Corn Flakes, quelli con il sole dentro. Eh, fu proprio una gran festa. Papà, la vuoi la mozzarella? Lella, sì c'era Lella. Gran bella donna. Il caprino, la crescenza. Ma che piacenza. Era di frascato. Ma nonno, è un formaggio. Formaggio, sì era in formaggio. C'è Philadelphia? Beh, la Delfio. Beh, non avete sentito, è pronto? Com'è morbido. Col colore buone. Ma non vedi tutto tu? No, mica sono sordo. No. Philadelphia, il piacere ha un gusto unico. Ho finito, mi cambio. Il mio check-up è ok. Eva Lilia Snella è il conman san agenza a compressione graduata che migliora la circolazione, modella i glutei, snellisce gli altri, partita dalla pancia. Lei è qui. Che ben viso. Eva Lilia Snella, esalta le tue forme. Nostro amore non sbaglia nunca. Nostro amore non sbaglia nunca. Calze San Pellegrino, calze resistenti. Alla standa, la moda da spettacolo. Vieni a vedere le proposte più calde dell'inverno. A colazione, un cracker. Ah, ma è dolce. Bisco Crack Pavesi, la leggerezza del cracker, la dolcezza del biscotto. Bisco Crack Pavesi, l'unico cracker dolce. Pavesi, per gente piena di vitalità. Alabama, 1955. Questa ragazza è seduta dove voglio stare io, dovrebbe stare in fondo. Un'altra donna negra ieri sera è stata arrestata e rinchiusa in carcere perché sull'autobus si era rifiutata di alzarsi per far sedere una persona bianca. E tu come fai a venire qui cinque giorni alla settimana? Oggi ho camminato. 50.000 persone parteciparono al boicottaggio degli autobus a Montgomery. Io ne conobbi una. La lunga strada verso casa. Giovedì alle 20.40. Su Rete 4. Giovedì!